E, diciamo, la riattualizzazione di questo tema, di questo problema, che è il populismo, negli ultimi anni, è in realtà una cosa molto strumentale, perché effettivamente di populismo se ne parla fin dall'inizio del Novecento e non è un fenomeno nuovo all'interno dell'Occidente. Ma anzi, il fatto di proporlo come un qualcosa di assolutamente inaspettato oppure di eccezionale vuole, in un certo senso, scongiurarlo, quasi farlo diventare appunto una sorta di interpretazione dell'imbarbarimento delle masse che, siccome sono tutte povere, siccome sono tutte ignoranti, non hanno il livello adeguato di conoscenze di cultura, allora si affidano a queste esperienze populistiche. E' ovvio che un'interpretazione, uno sguardo più approfondito e più serio deve tener conto di tutto quello che ci stavi dicendo. E appunto, proprio a partire dal fenomeno di disintermediazione, che può comprendere anche il problema della crisi, della rappresentanza in maniera più larga, più diciamo coerente, più complessa, ma anche il problema della globalizzazione, per esempio, quindi tutta la perdita di identità e di certezze che hanno caratterizzato i riferimenti simbolici e culturali delle generazioni precedenti, di conseguenza appunto il superamento dei confini nazionali, lo svuotamento della sovranità nazionale, la trasformazione degli istituti di cittadinanza, per cui appunto il welfare novecentesco fondamentalmente per chi appartiene alla mia generazione non è altro che un sogno. Ecco, tutti questi elementi messi assieme caratterizzano una crisi, diciamo, di un'identità, è una crisi anche di paradigma, di fase storica. Per cui volevamo chiedere a Mario Pezzella, che è un filosofo politico, un ricercatore merito della Scuola Normale Superiore di Pisa, autore di molti libri tra filosofia politica ed estetica, come effettivamente possiamo contestualizzare i populismi all'interno di una fase di crisi della democrazia liberale, per come l'abbiamo conosciuta finora. Senza ovviamente con questo dire che il populismo è la soluzione a questa crisi, e quindi in un certo senso è il superamento di questa crisi. Casomai potremmo dire che il populismo ne è un sintomo, è un segno appunto di questa situazione disequilibrata che stiamo vivendo. E a partire appunto da questi dati, com'è possibile anche vedere questo tipo di griglia all'interno del contesto europeo, che poi è quello che ci riguarda più direttamente. Riferimento a un autore che è già stato citato prima, cioè la Clau, che ha scritto un libro, La ragione populista. Io non sono d'accordo con le conclusioni di questo libro, però secondo me fornisce alcuni parametri, alcune categorie concettuali per pensare questo concetto, questo termine, al di fuori delle banalizzazioni giornalistiche di cui siamo tutti vittime. Allora, la Clau distingue quattro caratteristiche che secondo lui sono in genere comuni a tutti i movimenti populisti. La prima è quasi ovvia, è la crisi dell'ordine politico precedente. Nel passato europeo recente si tratta della crisi della democrazia rappresentativa parlamentare. In altre epoche storiche del Novecento è stato altro. Ma insomma, per noi il collasso dell'ordine simbolico e politico precedente, perché poi la Clau usa anche categorie psicanalitiche, adesso non mi addentrerò molto su questo aspetto, ma lui parla di collasso che è insieme dell'ordine politico, dell'ordine simbolico e quindi anche dell'ordine psichico che fanno parte di una forma di vita come quella che era la nostra in Europa e in Italia fino agli anni Ottanta e Novanta del Novecento. Questo complesso simbolico, psichico, politico è entrato in crisi determinando quella che Ernesto De Martino chiamava una crisi della presenza, cioè un disorientamento totale e una mancanza totale di punti di riferimento. Come un famoso contadino di cui parla appunto De Martino che è portato fuori dal suo paese e non vedendo più il campanile del suo paese si perde nella campagna e è completamente disorientato. Noi abbiamo perso il campanile della democrazia, diciamo così. Questa è la prima caratteristica, quindi il collasso dell'ordine simbolico democratico. Le altre tre sono, la seconda, l'identificazione di massa con un io ideale incarnato da un capo. Usando l'espressione io ideale la Clau riprende proprio il termine di Freud che nella psicologia delle masse vedeva appunto questo processo per cui un'intera massa, i membri di una grande massa di persone, si identificano in modo fusionale con un uno, con un capo carismatico, che diventa il loro io ideale, quello in cui loro si rappresentano o in qualche maniera delegano la sostanza della propria esistenza. Quindi questo è un secondo elemento, il capo carismatico, l'incarnazione in un capo. Il terzo elemento è la costruzione di un altro, tra virgolette, come nemico esterno del popolo. Cioè una relazione che in termini classici si definiva di amico-nemico. Il populismo si costituisce, crea la coesione dei membri della massa che si identificano col capo e che sostituiscono l'ordine simbolico in disfacimento, si costituisce coeso grazie alla creazione di un nemico contro cui si oppone. Se non si dà la corposità di questo nemico non si dà neanche la coesione interna del movimento populista. Salvo il fatto che come è immaginaria l'identificazione nel capo, anche questo nemico può essere altrettanto immaginario e non un nemico reale. Può essere un nemico immaginariamente costruito. La Clau ricorda appunto la categoria dell'immaginario nella psicanalisi di Lacan, in cui non è che questi, so, gli ebrei per il nazismo non rappresentavano effettivamente il male assoluto, ma vengono costruiti immaginariamente come il nemico male assoluto. Allora, non che ogni populismo realizzi un'operazione così radicale, ma comunque anche in forma più attenuata ha bisogno di costruire un nemico che è per lo più immaginario, ma non solo immaginario, perché per esempio in alcuni casi, quello del peronismo in Argentina, del primo peronismo, il nemico era il colonizzatore, così come per i regimi nazionalisti arabi degli anni 50 e 60 del 900. Lì c'è un nemico reale, è il colonizzatore, è l'inglese, è l'impero inglese. Questo dà una forza tutta particolare al populismo, ad alcuni populismi del 900. Comunque, se non c'è il nemico reale, lo si costruisce, che sia l'ebreo, che sia l'arabo, che sia l'immigrato, che sia qualcosa che comunque ha a che fare con un'alterità irriducibile e che giustifica il malessere che io provo. Io, membro della massa che avrebbe questo meraviglioso capo io ideale e che altrimenti vivrebbe in armonia. Però i conflitti ci sono, per quanto il popolismo cerchi, il movimento cerchi di occultarli, e come si possono spiegare questi conflitti senza ricorrere ai conflitti di classe, per esempio. Si devono spiegare attraverso un nemico immaginario che è lui il produttore alieno dei conflitti che minacciano la mia armonica comunità popolare. Poi, la terza, l'ultima caratteristica che Laclau identifica è la vaghezza del discorso populista. Ora, naturalmente, voi sapete che dai politici di professione vengono molte critiche a questa vaghezza del discorso populista. Cioè, parole d'ordine come, non so, giustizia, patria, terra e suolo, il sacro po'. Tutte queste cose, apparentemente, sono delle banalità, diciamo così. Però, tanto banali non sono, perché, diciamo, mettono in moto un apparato retorico immaginario, in parte inconscio, in cui vengono messe provvisoriamente insieme richieste che sarebbero altrimenti incompatibili. Cioè, apparentemente, tra, che ne so, il malessere di un operaio della Fiat, faccio per dire, che viene licenziato, e il malessere di un imprenditore, di un piccolo imprenditore del Nord-Est, non c'è molto... Cioè, ci sono alcune cose in comune, ma altre sono anche molto differenti. Ora, la parola d'ordine vaga serve a unire, in una unità immaginaria, interessi che di per sé sarebbero anche divergenti, saranno addirittura conflittuali. Nella sua prima fase, quella espansiva, il movimento populista è capace di mettere in piedi un apparato retorico, immaginario, mitico, che permette di ridurre ad unità ciò che altrimenti sarebbe assolutamente incompatibile o conflittuale. Quindi, questa molteplicità quasi anarchica di malesseri, di disagi, di interessi umiliati, di frustrazioni, tutto questo, questa molteplicità disseminata in realtà anarchica di per sé, e che si manifesterebbe in un modo anarchico, o in tumulti anarchici, questa conflittualità disseminata viene unificata, ma viene unificata non sulla base di una rappresentanza di interessi concreti, ma su una base immaginaria e retorica, profondamente retorica. Queste sono le caratteristiche principali che Laclau identifica nei movimenti che si possono definire in linea di massima populisti. Ora, termino questo primo intervento dicendo che noi abbiamo conosciuto in questi anni un processo che ci ha portato al nascere di questa forma politica populista. Ed è ovviamente la grande crisi economica, non solo, ma insomma il momento cruciale, la grande crisi economica iniziata nel 2008. Quello è il vero colpo di grazia a quella forma di vita simbolica, politica, immaginaria e psichica che era la democrazia rappresentativa. C'è stato un tentativo di sostituirla direttamente col dominio immediato del capitale finanziario. Monti in Italia, la Troica in Grecia, tentativi analoghi in Spagna e Portogallo. Però, tutto sommato, questi tentativi di comandi diretti ed espliciti del capitale finanziario che è servita, sì, a rendere, a demolire i partiti e gli stati nazionali, però fondamentalmente non funzionava sufficientemente bene come collante immaginario sociale. Diciamo che come attrattiva non ne aveva nessuna. Era la nuda forza economico-finanziaria che si sovrapponeva alla disgregazione di una moltitudine dispersa. Voi capite bene che questo può andare bene se a un certo punto dovete fare andare i carri armati in piazza se continuate in questo modo. Per cui questo andava bene per una fase di emergenza come è stata effettivamente quella di Monti in Italia ma poi lo spettacolo della politica doveva ricominciare. Ovviamente su basi nuove non poteva essere riproposto quella che De Boer chiamava la società spettacolare diffusa quella appunto della democrazia rappresentativa delle merci del consumismo delle merci perché di merci prima di tutto se ne consumavano ormai troppo poche e perché i danari per comprare e consumare merci in abbondanza divenivano sempre di meno. Quindi di fronte a questa crisi finanziaria e di fronte alla improponibilità di un diretto comando del capitale finanziario senza una spettacolarizzazione politica che creasse fascinazione immaginaria e coesione con senso immaginario nella gente perché la politica non si fa soltanto con i rapporti di forza ma anche con la fascinazione delle immagini questa era la scoperta di De Boer e rimane valida beh occorreva uno spettacolo di tipo nuovo e lo spettacolo di tipo nuovo è appunto la nascita di movimenti populisti che a differenza di quelli tradizionali del Novecento pensate al fascismo per esempio che qualche potere politico lo avevano realmente di controllo sull'economia beh il sospetto è che i nuovi populismi di controllo sui meccanismi del capitale ne abbiano pochissimo in realtà si sovrappongono immaginariamente al potere bancario finanziario internazionale senza mai incrinarlo effettivamente e profondamente diciamo che questi nuovi populismi abbaiano molto e mordono poco se la prendono certo con le banche distinguono tra capitale produttivo e capitale finanziario bancario come facevano anche i fascisti per cui il capitale finanziario bancario era quello degli ebrei e il capitale produttivo invece era sano questa è una distinzione classica della destra europea che i nostri populisti riprendono in genere la critica si rivolge sempre contro i cattivi banchieri distinguendoli dal capitalismo produttivo buono che si tratta semmai di restaurare di funzionare nessuno dei movimenti populisti in piazza diciamo così in questo momento mette in discussione il predominio del capitale produttivo allora quindi questo nuovo spettacolo politico che assume alcuni elementi critici per depotenziarli in forma immaginaria risolvendo la critica del capitalismo in critica del capitale finanziario bancario facendo questa operazione che Gramsci avrebbe definito una rivoluzione passiva cioè prendendo un aspetto reale della società e puntando questo particolare come se fosse la verità universale del tutto questa operazione diciamo così delle tre carte che però è profondamente potente cioè noi non dobbiamo pensare che tutto questo sia stupido non possiamo dire che sia come dire ingenuo non possiamo giudicare il populismo come un fenomeno di degenerazione di un'intelligenza politica altrimenti superiore questa è la critica che viene fatta dai partiti politici tradizionali che dicono ma come noi siamo così più raffinati così più intelligenti così più razionali e questi invece a chi vi andate ad affidare bene in realtà se la sofferenza sociale si esprime in questo modo questa sofferenza sociale anche se si esprime nella forma del populismo va compresa e ascoltata non va detto sono una massa di imbecilli che credono al vaffa dei o al sacro po e quindi non li deniamo di uno sguardo la sofferenza sociale si esprime in queste forme perché le forme politiche simboliche precedenti non sono più in grado di rappresentarla per le ragioni che ho accennato e quindi questo fenomeno va preso con una profonda serietà e semmai va interpretato quei bisogni che trovano espressione così immaginaria trovano espressione in forma immaginaria ma all'origine sono reali la sofferenza è reale anche se poi si esprime immaginariamente e quindi questa è l'operazione politica di comprensione che andrebbe fatta altro che dire sono tutti una massa di imbecilli grazie grazie grazie